buona domenica a tutti buongiorno e siamo nuovamente qui tutti insieme riuniti dove ce ne andiamo oggi la blonda ha un indizio la cintura ma noi prima di sapere tutto dobbiamo dire una cosa importante ok sigla oggi domenica 11 novembre perché quando una pulce fa la tosse fanno tutti cosa succede dovevamo andare all'acquario semplicemente una cosa tranquilla un acquario tranquillo parcheggio vicino si va si sta un paio d'ore e poi si va via ecco si era detto si era detto e invece troviamo transenne per tutta la città o mio dio e troviamo anche le transenne che non mi stavo sbattendo addosso al rosario e al passeggino perché perché c'è la half maratona la mezza maratona la half mezza maratona mezza maratona è cagirito mezza maratona pensavamo che era una maratona che ti toccano la palp vediamo adesso dobbiamo attraversarla quindi vediamo un po' iniziamo a toccare no magari toccano allora a te non sappiamo e perché comunque fatto sta che dobbiamo parcheggiare scendere due passi e entrare dentro e invece due chilometri e mezzo ma questo va benissimo perché abbiamo condiviso tutti e quattro la nuovissima applicazione sweet coin se volete vi condivido il link no 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 e tu che c'hai lo stesso ma almeno qualcosa anche a me va bene come funziona questa applicazione splendida e meravigliosa è rosso va bene passiamo come funziona funziona che tu cammini e loro ti pagano facile facile e non lo potevamo fare quando io ero in gravidanza che ho camminato un sacco e che ti devo dire l'abbiamo scoperta adesso quindi un poco di pazienza come ti pagano perché tu ogni volta che apri l'applicazione comunque hai dei banner pubblicitari e quindi loro guadagnano sulla pubblicità nonché sul catalogo delle offerte buongiorno c'è una follower che segue e quindi allora praticamente sui banner pubblicitari poi se tu anche vedi il catalogo potresti anche comprarti delle cose che non hai mai pensato di comprare tutto marketing tipo la blonde in vendita due passi e ve la comprate un affarone quindi non restate a fare passi all'indietro in ogni caso quindi non potete camminare in casa non potete zompettare in casa o fare gli scemi in casa in casa non su non funziona perché loro sanno dove essere a casa vostra si collega all'applicazione del del benessere del cellulare praticamente quindi la salute insomma c'è il benessere in ogni caso o io ce l'ho da una settimana ho già guadagnato 25 sweet coins questi sweet coins o li puoi utilizzare per comprare cose da catalogo o li puoi convertire in soldi esattamente 20 mila di tutto qualsiasi cosa da abbigliamento sport che ne so telecamere qualsiasi cosa ovviamente con prezzi alti si ma tanto è gratis che c'è non poi noi fra un anno vediamo quanto abbiamo camminato 20 mila sweet coins sono mille dollari poi che li puoi anche condividere c'è tu puoi passare i soldi anche altre persone così che di accumulare più velocemente si c'è io e te possiamo fare un'esattamente possiamo fare il cumulo e così che poi si prendono i soldi e quindi scaricate l'applicazione chiedetemi il link mi raccomando no alla blonde se vi sta più simpatica alla blonde chiedete il link a lei se volete consulenze su qualsiasi cosa chiedete niente da fare è riuscita la blonde anche da sola a farlo quindi mandatelo a me la richiesta ma perché stai dicendo che sei scema sì che l'inglese non lo so bene però l'ho saputo fare lo stesso tutto apposto non ci vuole nessun arco di genere noi nel frattempo stiamo camminando andiamo a questo acquario ciao vuoi dire sigla vuoi dire sigla dice sigla lo dice sempre quando siamo offline questa gente che corre ha fatto sì che noi non potessimo andare a tirare l'acquario con il con la macchina un poco di fase vedete vedete quanti ne sono maronna ma chi ciò fa fa ma guardiamo il lato positivo stiamo guadagnando soldi camminando oggi faccio tutta una pubblicità sweet coin mi raccomando prendete l'applicazione scaricatela eccetera eccetera divento ripetitivo ma sarà così tutto il video da voi allora non è che dovete scaricarla dovete chiedere il link dovete chiedere il link un soggetto ve lo invia e voi lo quindi sotto il video troverete un link nei commenti vuoi schiattate su questo link questo link qua sotto è chiaro sotto nel chat e vi e vi collegate a questo mondo magico di guadagni gratis solo per camminare noi oggi andiamo a napoli a piedi esatto oggi è la giornata di oggi arrivo previsto arrivo previsto con la lingua terra tra un anno e per intanto guadagniamo cosa fare qualcosa no un viaggio va bene sei pronta per l'esperienza andiamo all'acquario si andiamo si e siamo entrati all'acquario di di morno abbiamo dovuto compilare tutta una modulistica però gratis perché perché siamo la blonde no perché siamo insegnanti e il divino ha dovuto pagare tutti i miei 30 euro un po di pazienza certo ok asia che guarda i pesci asia guardiamo la faccia dei pezzi e guardiamo la faccia dei pezzi come fa il pesciolino asia come fa il pesciolino mi guarda lui vorrebbe mangiare vediamo se l'osario riesce ad accarezzare le ratte la testa dietro agli occhi vi va accarezzata dietro agli occhi dietro agli occhi dietro agli occhi vediamo se viene qua vieni 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 zoom vieni l'altra dove è andata? se non è scesa vabbè se si conosce ma quella che è andata qua l'ha accarezzata ma è stata andata da loro ma è stata andata da loro ma è stata andata da loro dietro agli occhi dietro agli occhi sulla testa dietro agli occhi questa sta qua vediamo se viene vieni 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 ma si può fare questa è l'imosina per fare il pesciolino dice nooo non mi voglio fare il soccato sta facendo sempre sta facendo guarda guarda basta tanto quando li prendo siamo di fianco alla vasca più grande con i pesci con le testugini guardate guardale che belle le tattatughe guarda adesso faculeranno anche chi lo sa guarda spalone sta con me no guarda sta con me guarda 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 è pauroso guarda c'è un granchietto guarda quanto è rosso guarda il granchietto vieni quelli che il nonno ti faceva prendere guarda 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 che bello come è strano ma non sarà secondo me un granchio proprio un granchio un granchio perché non è la la classica forma del granchio bambina terrorizzata e deficiente nello squalo non fa bua vieni non fa bua vieni 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 bufola vieni no vieni 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 dove è la blog lo squalo la sta cacando praticamente ciao 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 siamo arrivati all'ultima vasca quella di nemo ciao c'è il nemo finto ci sono i nemiveri e grazie che con il nome indovita qual è il nemo finto ciao ciao allora siamo fai 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 capì fai capì fai capì questo è un formicaio sono le formiche tagliate anche gli 8 metri di profondità questi nidi ok questo è l'ingresso le riesci a vedere? si vedono? si tutti i tunnel le gallerie e pensate che civiltà progredita hanno anche il deposito dei rifiuti quindi cioè da sole gli scarti del formicaio li portano qui c'è sono di un'intelligenza unica va bene andiamo a vedere in questi tunni cosa fanno questi tunni? però si vede mai lavorano lavorano vanno vengono a prendere qua e poi se la portano vanno nei chilometri, cioè queste si prendono le formiche di qua, vanno tutti i chilometri, attraverso i tubi, gliel'hanno imposto di fare praticamente e attraverso i tubi vanno poi a finire le formiche di qua. E quest'oggi passiamo dopo che ci siamo traumatizzati, no piace, non piace, lì all'acquario siamo al... il sottotitolo non scaricate nulla, è una sopola, imbrucia tutta la batteria, quello si, io le ore sono al 5%, sweet coin funziona ma ti frega la batteria, quindi quei soldi li dovete conservare per un cellulare nuovo, vabbè, un punto a sfavore ci doveva essere, però vabbè, vedremo, è il momento, ma diciamo, stiamo mangiando pasta al comodoro fresco per altri, a fronte. Eccoci qua, anche oggi, non abbiamo mangiato niente, niente, e allora, che schifo, il tempo è stato clemente, abbiamo mangiato bene, abbiamo visto, abbiamo fatto venire gli altri microinfarti ad Asia con i pescioloni, non piace, non piace, non piace, non piace, non so che sta facendo Asia, sta guardando, e quindi quando lo dirà mai, non lo dirà mai, lo diremo noi, signori e signori, arrivederci, alla prossima, non scaricate niente di quello che vi dice il per ridi. No! Sigla! No! Sigla! Grazie a tutti!